La grande benefattrice del Purgatorio, di sua rostia del cuore immacolato. Il libro Rapporto dal Purgatorio, pubblicato dall'editore San Paolo e scritto da un autore che ha preferito restare anonimo, interpreta la tradizione spirituale, mistica e teologica di santi come Veronica Giuliani, Caterina da Genova, Tommaso d'Aquino e illustra la dottrina cristiana del Purgatorio attraverso una serie di visioni, affidate come meditazioni, alla valutazione del lettore. In una sua pagina ci si imbatte in una rappresentazione molto semplice ma significativa per illustrare l'universalità della mediazione di Maria Santissima. Si legge Ho visto la Santissima Vergine camminare così, raccogliendo nel suo cuore immacolato tutti i nostri doni, tutte le nostre offerte. Poi essa li presenta davanti al trono di Dio e mostra il suo cuore pieno di tutto ciò che noi abbiamo donato. Allora Gesù lo riceve ed egli, il cuore di Maria, non vi versa che del sangue e acqua sgorgati dal suo cuore divino. Maria allora parte con il cuore gonfio dei doni divini dell'acqua e del sangue verso il Purgatorio sul quale apre il suo cuore materno. L'acqua e il sangue che vi ha messo Gesù si riversano in pioggia benefica. Maria vi aggiunge le sue lacrime e il suo amore e le anime ne ricevono immenso sollievo. Poi la Santissima Vergine lascia il Purgatorio e il suo cuore è pieno di riconoscenza e della preghiera delle anime sofferenti che essa si reca a presentare a Gesù. Egli la riceve e la scambia con l'acqua e il sangue. Allora la Santissima Vergine torna sulla terra verso la Chiesa militante e versa su di noi l'acqua e il sangue. Poi percorre la superficie della terra per fare provvista di preghiere, di suffragi, di buone azioni da presentare al suo figlio divino e da convertire in consolazioni e grazie per le anime del Purgatorio. Questa descrizione di carattere simbolico presenta in sintesi l'interrotta attività di mediazione di grazie della mamma del cielo sempre rivolta verso i bisogni di ogni anima non ancora giunta al porto eterno. Un'intercessione quindi che non si limita alla Chiesa militante ma che è attenta ed efficace anche nei confronti delle anime del Purgatorio, non più in pericolo di perdersi eternamente ma destinate a purificarsi nel fuoco per presentarsi pure e splendenti al cospetto di Dio. Questa descrizione ci ricorda altresì quanto sia importante il nostro contributo in questa economia di intercessione della grazia. Anche solo un'Ave Maria fa la differenza. È attesa dal Purgatorio come un refrigerio di incalcolabile valore. Aveva ben ragione Santa Teresa Davila a raccomandare alle sue monache di suffragare generosamente le anime purganti con la recita del Santo Rosario proprio per il valore inestimabile di una sola Ave Maria a sollievo del dolore provocato dal fuoco spirituale e dalla momentanea e dolorosissima separazione dal Dio amore che le purifica. Se pensiamo a quanto tempo perdiamo durante la giornata in cose magari futili e non necessarie, potremmo davvero convertire questo tempo perso in tante Ave Maria che la mamma delle anime purganti presenterà al cuore di Gesù per fare piovere nel Purgatorio l'acqua divina del ristoro e della grazia. Ecco perché San Pio da Pietrelcina raccomandava di svuotare il Purgatorio con l'arma del Santo Rosario. La Madonna attende veramente l'occasione di poter cambiare queste Ave Maria in grazie di consolazione e liberazione per quelle anime immerse in pene da noi inimmaginabili. La Madonna ci ama sempre. Sì, Maria vuole soccorrerci, ci ama come madre e San Pier Damiani diceva che questo amore è tale che non può essere superato da nessun amore creato né distrutto o intiepidito da nessuna miseria o ingratitudine nostra. Questo è molto incoraggiante considerando quanto sia grande la nostra ingratitudine. Il suo amore perdurerà anche dopo la nostra morte. È eterno ed è rivolto ad ogni singola anima. Anche in Purgatorio ella ci sarà accanto per abbreviare e mitigare il nostro martirio, per farci giungere presto al luogo del refrigerio. Certamente più l'avremo amata in terra e più la sua assistenza e intercessione saranno efficaci nell'aldilà. Se il nostro amore sarà veramente totale e colmo di fiducia, il Purgatorio lo vedremo solo da lontano, ma è necessaria tanta fiducia e la pratica delle virtù. Inoltre, se noi aiuteremo sin da ora le anime purganti, sicuramente loro stesse ci aiuteranno durante la nostra vita e ancor più al momento fatidico della morte, proprio per fare in quel momento quello che Santa Sofia Barat chiamava il balzo di un bambino tra le braccia della madre. Questa dovrebbe essere la morte di un vero figlio di Maria Santissima. Santa Faustina Kowalska nel suo diario dice che le anime purganti sono felicissime ogni qualvolta la Madonna va a visitarle per dar loro sollievo e che laggiù la chiamano dolcemente stella del mare, quale astro di luce in tanta sofferenza. La Chiesa pertanto ha messo a disposizione tantissimi modi per aiutare questi nostri fratelli, aiuto che ritroveremo quando saremo noi pure alle soglie dell'eternità. Aiutiamo la regina del Purgatorio a consolare tante anime sofferenti e diciamole di cuore con San Gabriele della Dolorata, in te signora ho sperato, non resterò confuso in eterno.